Bentornati sul canale, bentornati su Afterside, io sono Nick, parte del team e oggi riprendiamo con i nostri altcoin recap, l'appuntamento in cui andiamo ad analizzare le altcoin che ogni giorno ci chiedete se vuoi che anche le tue altcoin vengano analizzate nei prossimi appuntamenti, scrivele qua sotto nei commenti e se saranno abbastanza gettonate saranno oggetto di analisi nei prossimi video. Come sempre non si tratta né di consigli trading né di consigli finanziari, sono solo delle chiacchierate che facciamo assieme davanti ai grafici per fare un po' il punto della situazione. Detto questo non perdiamo altro tempo e se questo video ti fa piacere metti un bel like, a te non costa nulla, noi da un sacco una mano con l'algoritmo del tubo, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sul pezzo in un mercato che si muove alla velocità della luce. Andiamo allora a vedere il king bitcoin che ultimamente ci sta facendo perdere i capelli perché dopo il weekend di fuoco della settimana scorsa vediamo che oggi ha avuto una ripresa importante e si è riportato in zone diciamo un po' più sicure. Stiamo infatti andando a ritestare la EMA 200 che vedete qua intorno ai livelli dei 59.500 circa e vedete che se prima la situazione che si delineava era un possibile lower low con lower high e continuazione del trend ribassista, se la candela di oggi nel momento della registrazione dovesse chiudere appunto sopra alla 200 EMA o in zona 200 EMA o comunque con un range maggiore dell'ultima candela rossa che ha segnato il lower low potremmo andare a segnare un higher high e riportarci fuori pericolo e tentare di rientrare nella nostra amata boring zone che ormai definirei quasi comfort zone. Detto questo vedete che oggi bitcoin si è dimostrato molto forte, ha fatto una buona ripresa, ha messo un 9.28% cifra direi di tutto rispetto per un asset con una capitalizzazione così ampia e infatti tutto ciò si vede, si vede dalla dominance, dominance che attualmente sta andando a ritestare i massimi locali di questo ciclo, vedete ieri era andata appunto a segnare nuovi massimi, oggi sta andando a ritestarli, infatti tutta l'attenzione attualmente è concentrata su bitcoin, se andiamo infatti a vedere il grafico di ethereum vediamo che sì anche lui oggi ha fatto bene, ha messo molto ma non ci troviamo ancora fuori pericolo perché la 200 EMA è ancora molto lontana, la sua price action ha appena segnato un lower low importante, vedete qua che si è stoppato qua e adesso sta tentando di andare a segnare un IRI, se dovesse riuscire a segnare un IRI potrebbe segnare un uptrend fino ad andare a testare la 200 EMA però poi fino a quando non la rompiamo ci portiamo sopra di essa e ci riportiamo nel canale di lateralizzazione in cui ci troviamo da marzo, vedete appunto qua tra i 3.900 e 2.822 io non mi riterrei ancora fuori pericolo. Per ethereum c'è ancora molta strada a fare, possiamo vederlo ulteriormente sul grafico di ethereum bitcoin, grafico in cui abbiamo individuato questo canale ribassista di cui abbiamo parlato anche nel video di ieri, andate a vederlo perché sono dei contenuti ancora molto attuali e vedete che è andato a ritestare la trend line sul bottom di questo canale, ha rimbalzato su di essa e se dovesse appunto effettivamente chiudere la giornata in positivo potrebbe tentare di andare a ritestare anche la trend line della parte superiore del canale e perché no poi per portarsi in zone un po' più sicure anche qua sul grafico contro bitcoin perché attualmente vedete che è un asset molto molto debole contro bitcoin causa l'attenzione che gli è stata dedicata e lo vedete benissimo come abbiamo appena visto sulla dominance. Prima di proseguire con le vostre altcoin ragazzi io vi ricordo di Zumex, la super promo che è riservato per la nostra community, depositate 100 dollari e ricevete 50 USDT in regalo 20 dei quali saranno prelevabili fin da subito e 30 dei quali saranno un add-on per la vostra posizione che sia in futures o che sia in spot quindi potete giocarveli diciamo così a gratis appunto sui mercati futures in leva o semplicemente in una posizione più blanda sullo spot per chi non sapete cos'è Zumex, Zumex è un exchange nonché WC da poco è arrivato in Italia e vi permette di andare a operare sui futures quindi sui derivati e sul mercato spot delle vostre crypto preferite senza la vendita dell'entità. Infatti per accedere vi basterà una mail e una password che sarete dentro e se vi interessa andare a provarlo vi lascio il link qua sotto in descrizione che dà una mano alla nostra community e ci aiuta a sostenerci e supportare il nostro canale. Partiamo allora da Notcoin, questo è un asset di cui mi avete chiesto tantissimo, è un asset che io stesso sto seguendo e vediamo che nota dal suo rilascio a maggio ha messo tantissimo più nello specifico in una settimana ha messo un 430%, adesso ve lo faccio vedere meglio sul grafico weekly, vedete infatti questa candelona veramente molto importante che come dicevo ha messo circa il 430% in una settimana e da quel momento è iniziato un downtrend appunto comunque sempre nel range di questa mother bar sul settimanale. Andandola a vedere più nello specifico sul daily possiamo andare ad individuare più chiaramente dei supporti chiave che ci hanno salvato sia durante il FAD della Germania di MTGOX a luglio, vedete qua appunto questa zona degli 0010 e anche durante il flash crash che c'è stato nell'ultimo weekend se così possiamo chiamarlo, vedete che il prezzo si è adagiato sul supporto degli 0095 circa quindi quest'area è un'area dove si è manifestata storicamente ad oggi perché non c'è un grande storico su questo asset, molta domanda ed è un'area su cui adesso attualmente sul grafico daily abbiamo rimbalzato andando a segnare un higher high, un higher low e vediamo appunto se riusciremo ad andare a segnare un altro higher high sul daily affermando un uptrend per poterci riportare in zone più sicure e andare ad aggredire le prossime resistenze chiave che possiamo trovare qua in zona 015-016 circa per poi andare a navigare fino alla resistenza, sempre numeri tondi, livelli chiave degli 0020 e poi andare ad aggredire i massimi storici intorno agli 0029. Parliamo ora di Polkadot, questa è una crypto che avete in tantissimi, che ci avete chiesto in tantissimi probabilmente perché è stata una delle protagoniste principali del ciclo 2020, questo perché faceva parte di una narrativa molto importante che era la narrativa del layer zero e c'è stato anche molto hype che ha seguito il rilascio delle sue parachain nonostante gli ottimi fondamentali che ha questa crypto perché ha dei fondamentali davvero impeccabili, non per niente il founder è Gavin Wood che è uno degli ex co-founder di Ethereum, nonostante questi fondamentali in questo ciclo purtroppo ha lasciato delusi molti dei suoi investitori infatti se andiamo a vedere il vecchio massimo storico che possiamo apprezzare meglio sul weekly vediamo che si trova in zona dei 55 dollari che è esattamente un 78% all'ingiù da dove abbiamo segnato il top locale in questo ciclo quindi a 12 dollari, vedete, meno 78% questo è un asset che rispetto allo scorso ciclo ha perso tantissimo e non è più riuscito a recuperare nonostante appunto i fondamentali ottimi che ha alle spalle vediamo infatti che anche Polkadot non è sopravvissuta all'attenzione che è stata dedicata a Bitcoin a marzo quando ha cominciato a lateralizzare ed è entrata in un downtrend downtrend che è andato a collimare in una wedge che possiamo apprezzare meglio sul grafico giornaliero vedete infatti qua questa wedge poi è stata rotta a ribasso per andare a violare la 200 ema sul giornaliero e entrare in un downtrend che ci ha portato praticamente con il flash crash di lunedì scorso da dove siamo arrivati quindi zona dei 3 e 5, 3 e 6 adesso abbiamo avuto un rimbalzo tecnico che sta provando a riportarci un po' più a galla ma vedete che sopra di noi abbiamo ancora molto da recuperare prima di arrivare anche solo al massimo locale segnato in questo ciclo la resistenza più importante e degna di nota ad oggi attualmente è la resistenza dei 5 e 6 e poi via discorrendo quella dei 6 e 6, 8 e 5, 10 e poi il massimo locale di questo ciclo che sono gli 11 Ripple, Ripple è un asset che mi fa sorridere perché è un asset che si sta facendo totalmente gli affari suoi infatti vedete che il massimo locale lo ha segnato ancora prima dell'inizio di questo ciclo lo ha segnato a 0,9 e questo perché Ripple è in una narrativa tutta sua la narrativa della causa che sta avendo contro la SEC causa che ogni volta che rilascia delle news in base al fatto che siano positivo o negativo muove il prezzo all'insù o all'ingiù infatti vedete che rispetto alle altre crypto ha avuto una price action non convenzionale dall'inizio di questo ciclo ovvero ha trovato il suo spike subito poi è andata in downtrend e è andata di nuovo a fare questo double top intorno a questa zona degli 0,7 zona dove è stata rigettata per poi entrare in questo canale di lateralizzazione in cui ci stiamo trovando attualmente canale di lateralizzazione che vediamo abbiamo ritestato verso il basso nel periodo del FAD di MTGOX e della Germania canale che ha tenuto egregiamente anche durante il crollo dovuto alla paura dell'ultimo weekend infatti vedete che comunque il prezzo ha tenuto molto molto bene e vedete che qua è andato appunto a quasi a ritestare il bottom di questo canale ma si è riportato subito in alto verso il top di questo canale vediamo poi che il prezzo per questo asset sta tenendo molto bene anche la 200 EMA sul giornaliero e anche la 200 EMA sul weekly segno che è comunque un asset molto molto forte infatti vedete la ripresa che ha avuto anche sul weekly vedete questa scelta lunghissima rispetto al crollo del weekend scorso BNB BNB ragazzi è un token che ha fatto benissimo in questo ciclo vedete che è uno dei pochi che è riuscito ad andare a segnare un nuovo massimo storico rispetto al ciclo del 2020 non di molto perché si tratta di un 4,4% ma comunque è riuscito a farlo questo è un asset potentissimo e come abbiamo parlato anche in una puntata di Shillers probabilmente è dato dal fatto che ormai gli exchange token sono molto molto correlati all'andamento degli exchange BNB essendo il token di Binance e Binance appunto è il broker di criptovalute più grande al mondo vediamo che sta andando molto bene e anche vedete qua che a marzo quando Bitcoin ha iniziato a lateralizzare ha iniziato a lateralizzare anche lui e poi a giugno è andato a segnare il suo massimo storico quindi anche qua questo denota una price action molto forte per questo tipo di asset vediamo che durante il FUD della Germania di MTGOX ha trovato un supporto molto importante che ha ritestato anche durante lo scorso weekend che è quello dei 490 vedete anche qua il prezzo come è capitolato violentemente sul grafico sempre settimanale ma poi si è riassorbito molto in fretta per andare a riportarsi sopra questo livello vedete appunto dei 490 e vediamo anche che sul weekly la EMA 200 è molto lontana se andiamo sul grafico daily possiamo apprezzare il fatto che abbiamo violato all'ingiù la 200 EMA ma come Bitcoin vedete quanto sia simile il grafico daily di BNB rispetto a quello di Bitcoin come Bitcoin abbiamo appunto segnato questo lower low ma stiamo provando a riportarci con forza e con convinzione a ritestare la 200 EMA e speriamo anche a riportarci sopra di essa per poter continuare un uptrend che ci riporterà probabilmente a ritestare i massimi storici andiamo poi a vedere Boson Boson vediamo che è un'altra cripto che si è comportata molto bene in questo ciclo e che mi avete chiesto anche in moltissimi infatti Boson è andato a segnare un 600% circa 596% ed è quasi andata a ritestare i suoi massimi storici che vedete sono qui in zona 0,98 peccato che il top locale di questo ciclo è stato 0,96 quindi veramente veramente molto molto vicino al suo massimo storico ma qui appunto è andato a ritestarlo proprio a marzo quando l'attenzione è stata shiftata tutta su Bitcoin e si è visto anche su Boson purtroppo infatti vediamo che sul grafico daily è andato in un downtrend che l'ha portato a violare la 200 EMA per poi con l'ultimo flash crash che abbiamo avuto andare a ritestare questo supporto molto importante degli E02 per poi provare attualmente al momento della registrazione di questo video a rientrare in questo canale di lateralizzazione che è stato trovato sul grafico del mensile infatti vediamo sul mensile che Boson ha messo tantissimo in un mese andando a segnare una mother bar che ha dettato un range in cui stiamo tentando di ritornare proprio in questo momento infatti in questo momento sul mensile stiamo andando a ritestare il bottom di questo canale di lateralizzazione di questa inside bar mensile e vediamo se andremo a rimbalzare su questa trend line per poi andare a invertire il trend o se il trend è destinato a bucarla e a continuare a ribasso sul mensile e anche sugli altri time frame comunque in ogni caso sul time frame del daily vediamo che attualmente siamo in down trend e per invertire questo down trend io mi aspetto di vedere se non altro un higher high seguito da altri higher low cosa che attualmente vedete non si è ancora verificata chiudiamo l'appuntamento di oggi con Brett Brett è un meme che è nato sulla chain di Bayes chain su cui c'è stato molto hype per i meme subito dopo quella di Solana vedete in questo periodo di aprile quando è nato Brett vedete Brett che fa parte della narrativa dei meme che è una delle narrative predominanti come già accennato negli scorsi episodi per questo ciclo e vedete che dopo questo banana effect è andato a segnare un all time high andando a mettere un 560% circa e dal momento in cui è segnato questo all time high a giugno è andato in fase di consolidazione per poi entrare in un down trend io vi ho portato questo meme in particolare oggi perché rispetto a tutti gli altri meme che durante la capitolazione che c'è stata tra domenica e lunedì si sono ripresi molto in fretta è un meme che ancora si deve riprendere del tutto infatti vedete che nella giornata di oggi proprio nella giornata di oggi è andato a segnare una candela verde di ripresa che potrebbe andare a segnare un lower high col tentativo di andare a riportarsi sopra questa resistenza che è anche un supporto molto importante ha sempre livello chiave dei numeri tondi psicologici quindi dello 0.10 e se dovesse andare a riportarsi sopra questo supporto potrebbe tentare di andare a invertire il trend e farlo diventare un up trend rispetto al down trend in cui ci troviamo adesso vi ho segnalato questo nome perché è un nome a mia opinione ritardatario ovviamente non ho la sfida di cristallo fate sempre le vostre valutazioni comunque questo supporto è sicuramente da tenere d'occhio questo supporto degli 0.08 perché è un supporto che ci ha salvato dalla capitolazione molto violenta che abbiamo avuto nell'ultimo weekend bene ragazzi per oggi ci siamo detti tutto spero che questo video vi abbia fatto piacere se è così fatemelo sapere con un bel like al video se siete nuovi iscrivetevi al canale e io vi ricordo la prom di Zumex in cui vi regala 50 USDT a fronte del primo deposito di 100 USDT se poi volete che le vostre cripto preferite vengano coperte nei prossimi video scrivetele tutte nei commenti siete tantissimi e avete decine e decine di altcoin ma proverò a fare del mio meglio per riuscire a coprire se non altro le più gettonate in ogni caso vedete che io qua me le segno tutte quindi nessun commento passerà inosservato detto questo ragazzi io vi saluto vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi